Il Green Riverdale è famoso ed è passato alla storia per essere il serial killer che ha fatto più vittime negli Stati Uniti Nella storia degli Stati Uniti ha usato 49 donne Sicuramente, probabilmente il numero potrebbe arrivare fino a 71 E tutto questo praticamente in due anni Ciao, grazie di essere qui, 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 con me oggi Benvenuti nello speciale annuale di Halloween Come da questo è il terzo anno che ho deciso di fare un video di true crime come speciale Halloween Cos'è il true crime? È un video, una storia di cronaca nera Parlerò del serial killer che ha fatto più vittime nella storia degli Stati Uniti E sto parlando del Green River Killer Non è una storia facilissima, è una storia che ha detto tanti traumi, tante vittime, tanta sofferenza E quindi chiedo alle persone sensibili a questi argomenti e ai giovani Persone troppo giovani quindi direi fino alle medie ma anche inizi superiori se sapete Questo non è il vostro genere Lasciate stare, chiudete qui il video E ci vediamo giovedì con un video adatto a tutti Questa cosa ci tengo a dirla perché non voglio creare traumi a nessuno Quindi davvero state attenti e proteggetevi Io ascolto spesso queste storie e mi affascina il lato psicologico Ma non mi turbano Quindi riesco ad ascoltarle Se voi sapete di non essere come me lasciate stare, davvero non è un problema Per le persone che sono rimaste ci sarà anche un tema non fantastico della negrilia Quindi anche qui Magari non guardate questo video se siete sensibili a questo argomento Se vi fa particolarmente impressione Prima di cominciare anche il video volevo solo dirvi e dare credito praticamente di questo video a Bukalla Perché la maggior parte delle informazioni che ha reperito sono state dal suo video riguardo Quindi potrete anche trovare diciamo delle corrispondenti fra ciò che dice lei, ciò che sottolinea lei e ciò che sottolineo io Quindi vi lascio anche il suo canale youtube se non ricordo Sotto in descrizione mi piace molto come racconta lei Sono molto brava quindi metto le mani avanti vi dico Grandissima 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 ispirazione E' stata presa dal suo video riguardo Oggi vi parlo di Gary Leon Ridgway Nato a Salt Lake City nello Utah nel 1949 E' un ragazzo che non ha avuto un'infanzia facilissima Soprattutto dovuta al fatto che aveva una famiglia estremamente disfunzionale Aveva due fratelli ed è cresciuto appunto con madre, padre e due fratelli La madre era una signora estremamente con un carattere estremamente dominante Era una donna bella che sapeva sovruttare la sua bellezza per avere potere e per appunto sovrastare sugli uomini E' una donna molto sicura di sé e molto non severa ma penso anche molto ecocentrica Insomma non una grandissima madre Non ha mai accettato, non gli è mai interessato secondo me del benessere del figlio Il padre di Gary invece era una persona sottomessa Era un uomo, il tipico uomo che tornava a casa e si lamentava di quante prodotte ci fossero in giro per la strada Di quanto la casa perdesse valore così ed era il primo ad andarci Di un personaggio del genere E in questa famiglia disfunzionale c'è questo ragazzino Che fin da quando va a scuola ha delle difficoltà Gary soffre di disturbi dell'apprendimento DSA sicuramente ne avete sentito parlare Ma non si sa bene quale esattamente Se dislessia, discalculia o altro Perché immaginatevi negli anni 60, 70 Assolutamente non c'era Non si diagnosticava questo disturbo dell'apprendimento Non c'era sostegno Non c'era nessun aiuto per riuscire ad apprendere Per riuscire ad apprendere in un modo funzionale E quindi questo ragazzo l'ha lasciato lì da solo a cercare di imparare E veniva preso in giro da maestri, da compagni di scuola e anche dalla famiglia Inoltre Gary aveva anche un quoziente intellettivo abbastanza basso Le tue cose non sono collegate Avere un disturbo dell'apprendimento è una cosa Avere un quoziente, il quoziente intellettivo è un altro Totalmente separati Voglio che sia chiaro Comunque, oltre ad avere disturbi dell'apprendimento Aveva anche un quoziente intellettivo abbastanza basso Questo lo portava a fare ancora più fatica a scuola E quindi è stato particolarmente bullizzato a scuola Maestre, maestri, studenti, famiglia Sempre paragonato ai fratelli che erano di più Soprattutto la madre l'ha sempre paragonato L'ha sempre fatto star male Ma l'ha fatto sentire fondamentalmente accettato e amato E questo ha fondato in Gary un trauma molto intenso Che ha segnato la sua vita e quella di molte altre persone Non gli è mai passato, non ha mai digerito, non ha mai maturato Per farvi capire l'ambiente in casa È stato raccontato un episodio In cui il padre a cena C'è un tipico episodio in cui il padre a cena si lamentava per qualcosa La madre a un certo punto non ce la faceva più Prendeva un piatto Glielo spaccava in testa E il padre senza dire niente Se ne andava Voi capite che crescere in un ambiente così non deve essere facile Inoltre ha tutti i suoi problemi Quindi non si è vissuto bene la sua infanzia Sui genitori inoltre gli causavano ulteriori traumi Minacciandolo di mandarlo in collegio Cosa che sarà capitata anche ad alcuni di voi Di essere minacciati un po' La minaccia Ti mando in collegio Guarda che se non fai il bravo ti mando in collegio Ma lui la vedeva molto come un rischio di abbandono da parte della famiglia Sempre sofferto di paura di essere abbandonato Paura di non essere accettato Di non essere amato E quindi lui è terrorizzato da questa cosa Si impegnava tantissimo a scuola E in realtà ce l'ha sempre fatta È stato solo bozzato un anno Ma per tutte le difficoltà che aveva È stato anche Ci ha impegnato veramente tantissimo Con lo scopo di ottenere Qualche gratificazione dalla madre Che in realtà Non è mai arrivata Inoltre Gary ha sofferto di enuresi Fino a circa 13 anni E enuresi è banalmente Quando fai la pipi a letto Ne soffriva molto spesso E questo da quello che ho capito Può essere dovuto al fatto di non aver ben Di non Di avere della sofferenza dentro Ma di non riuscire Giustamente a elaborarla E la madre lo umiliava sempre Per questa cosa Lo svegliava Lo puliva Cioè lei lo puliva E anche questo ha creato In Gary Dei sentimenti contrastanti Infatti Gary Sua madre la descrive Com'è Sessualmente provocante Cioè voi Immaginatevi Non è normale Classico Descrivere la propria madre Così Vuoi dire una bella donna Ma così E infatti Questi episodi Anche in cui lui è già un pochino grande C'è entrato nella pubertà Ma Sua madre fa questa cosa Proprio per umiliarlo Per farlo vergognare Che risuscita in lui Desiderio Verso la madre Ma anche Repulsione Voglia di essere violento E quindi Molto spesso Dice che sognava Il Farlo Con lei E poi essere violento Picchiarla Quindi Capite questo sentimento Verso la madre Tutto questo astio E La madre ha un ruolo Fondamentale Secondo me In questa storia Quindi sì Inoltre Un altro Tassello Della pubertà Di Gary E' il fatto che Suo padre Per un breve periodo Aveva lavorato In obitorio E una sera Raccontato Che lui Vedeva a volte Un Un signore Che entrava Per Farlo Con i cadaveri Necromilia E questa cosa Gary Non l'ha schifato Anzi E quindi Telly capisce anche Di avere una certa Perversione Ecco Quindi Non si vive Neanche bene Questa fase E Diciamo che Non penso L'affronti Come qualunque Ragazzina La dovrebbe Affrontare Mettiamolo così Inoltre Sempre in questi anni Comincia A essere Vento Con Gli animali Prima Di ucciderli Li fa anche Soffrire Molto cattivo E questo segno Di essere Violento Con gli animali E' Molto Distintivo Lo si vede In tantissimi Serial killer Perché Gli animali Sono esseri Che Riesci A sottomettere Facilmente E questo E questo è Un bisogno Di potere Un bisogno Di sapere Di poter Dominare E sarà Molto importante In questo aspetto In questa storia E All'esatto Di 16 anni Gary Non ho capito Bene Se lo incontra Nel bosco Lo porta Nel bosco Porta Nel bosco Un bambino Di 6 anni E lo Accolta Al fegato Al fegato Infatti Questo bambino Poi verrà Operato E Gary Pensa Di Eserci Riuscito E il bambino Perché il bambino Si è vinto Molto Molto più ferito Di quanto fosse Ecco Si è vinto Proprio Morto E Gary E il bambino Racconta 6 anni Il bambino Racconta Che Ha visto Andare i viagheri Saltellando Di gioia Dicendo Canticchiando Ho sempre Desiderato Sapere Che cosa Si prova A uccidere Qualcuno Ok Come potete Immaginare Questo bambino È Rientrato C'era uno Di suoi vicini Tutti Sapevano Che lui era Violente Con gli animali Che lui aveva Fatto questo Bambino Io non capisco Già Qui Perché non si Sia intervenuti Non è successo Nulla Non lo so Faccio fatica A capirlo In ogni caso 20 anni Dopo la scuola Entra nella marina E A quell'età Si sposa Anche Con Non mi ricordo Il 9 Siamo Nel 1971 Sposa Claudia Borrows Una ragazza Che era Sua amica Al liceo E questo matrimonio Non durerà Tanto Durerà solo un anno Perché poco dopo il matrimonio Lui viene Appunto Entra nella marina E viene arruolato Per la guerra del Vietnam E Vuoi dire Oddio Cioè Adunciamo Traumi A questa cosa In realtà No Non ne parla Cioè Lui probabilmente Ha visto cose Ma non La marina Non ne faceva Penso Realmente parte Non era come Essere sul campo Quindi In realtà La cosa che si ricorda Di questa esperienza E che Ricordiamo anche noi E che Lui Ovviamente Non è stato fedele Alla moglie E Ha preso questo vizio Del padre E Ah Una cosa che non vi ho detto È che Rie aveva un appetito Insaziabile Insaziabile Lo dicono tutte le sue mogli Tutto Insaziabile E Vendeva Molto Molto Spesso A proste Proprio Le usava Un oggetto E Qui ha anche preso La conorrea E si è anche molto Arrabbiato Perché Cioè Maledette No Che me l'avete pure Trasmessa Però questo Non l'ha affermato Già che c'era Cioè Ha continuato Ad avere questo comportamento Vinita la guerra Torna a casa E scopre che Claudia Praticamente Conviveva Con Il suo miglior amico Quindi anche Lei era stata Invedele Ovviamente Lui si arrabbia Moltissimo Anche con lei Come se Non fosse stato Estremamente Infedele E Divorzano Praticamente Un anno dopo Una storia D'amore Molto lunga Intensa Direi Il Loro Divorzano A gennaio Del 1972 E a Dicembre Del 1973 Si risposa Con Marcia Marcia Winslow Ci starà Per Circa Nove anni Sarà Spoto Per Circa Nove anni E Avrà anche Un figlio Da lei Nel 75 Un figlio Di nome Medio Quindi È Il 73 E Lui Comincerà Ad agire Nell 82 Si pensa Nell 82 Forse Ha fatto Vittima Anche prima Ma questo Non si sa Non l'ha mai Detto Quindi Quando Ancora Lui Sta Quando Ancora Stava Insieme Con Lei In questo periodo Che è l'inizio Un nuovo lavoro Come Verniciatore Di Pickup Ed è anche Molto bravo Nel suo lavoro E Viene Ilotato Cioè diventa Un esempio Guarda come bravo Guarda come preciso Guarda come Diligente E inoltre In questo periodo Diventa anche Fanatico Religioso Ma Che Cioè Come è possibile Uno che Va A prostitute Uno Nel mio senso C'è un resto Violento Con Tanti Esseri Come è possibile Diventa Fanatico Religioso Legge la Bibbia In continuazione Piange Ai sermoni Del pastore Fa Addirittura Proselytismo Porta Porta Cioè Veramente Diventa Un pilastro Un esempio Di fedeltà E quello che ho sentito E che probabilmente Non so esattamente Che problema psicologico Abbia Sicuramente Nia uno Più di uno Ma lui Riusciva A Immedesimarsi In diversi personaggi E quando era Il La La prova Personale Religiosa Era quello Cioè Se gli avessero chiesto No ma tu Gli avessero chiesto No ma tu E prostitute Gli ho detto No assolutamente No E E ci avrebbe Creduto Perché lui Proprio si isolava Nel suo personaggio Interpretava Il suo personaggio Marcia L'ex moglie Di Gary Racconta Che Oltre a essere Insaziabile Suo marito La metteva Spesso anche In difficoltà Chiedendole Di farlo In luoghi Pubblici Esposti O molto spesso La portava In boschi E Si è scoperto Dopo Che La portava Nei luoghi Dove vicino Aveva Serpellito Delle vittime E quello che si pensa È che le vittime Fossero Già In alto Stato Di decomposizione Quindi Lui non potesse Più Sfruttarle A livello Fisico E quindi Ci portava Sua moglie Per compensare No Sembra Nel luogo In cui però Avrebbe voluto Farlo Con Le vittime Ma quantità Mi può avere Anche creata Questa donna Cioè Io sono rimasta Traumatizzata Pesantissima Che schifo Puoi sapere Che tuo marito Lo fa Ma lasciamo stare Le prostitute Lasciamo stare Le malattie Sessuali Con i morti Che inoltre In più occasioni Ha anche tentato Di estragolare Marzia Con Non so come si chiama Questa mossa Da dietro E Però Sembra Cioè Non è mai andata oltre Però Anche lì Ed è una mossa Che in realtà Ha usato Per togliere La vita Alle ragazze Cominciamo a parlare Del Del perché Sto raccontando Questa storia Le vittime di Gary Erano Giovanissime Andavano di solito Dai 13 Ai 17 anni La più Anziana Aveva 31 Anche perché A lui piacevano Proprio quelle giovani Quelle inesperte Megliose vergini No Come vi ho detto Le vittime accertate Sono state a 49 E La prima vittima È stata Nel 1982 Il suo nome Era Wendy Lee Coffield 13 anni Lei in realtà Non era una prostituta Era una ragazza Si stava comportando In modo ribelle Verso la sua famiglia Perché I suoi avevano divorziato Lei era molto legata Alla sorella Ma i suoi genitori Avevano deciso Di separare La sorella E lei Cioè Una con il padre E una con la madre Perché Cioè Sei proprio cattivo E Inoltre Era talmente ribelle Che a certo punto La madre Non riusciva più a tenerla E è stata anche Portata in affidamento In ogni caso Questa ragazza Diceva sempre Anche una cosa Molto inquietante E cioè Che non sarebbe arrivata A 18 anni Le nera Sicurissima E quindi Ha cercato di accumulare Più esperienze Possibili Scusate Va a 17 anni Wendy Scusate La sua prima vittima Nel 1989 È Wendy Lee Coffield 17 anni La sua prima vittima Nel 1872 È Wendy Lee Coffield 17 anni Wendy Quando aveva 10 anni I suoi Si sono Hanno divorziato Lei fin da piccola Appunto Continuava a dire Che non avrebbe mai Superato i 18 anni Quindi lei È già arrivata A 16 17 anni Le voleva Accumulare Il più esperienze Possibili Ed è per questo Che sarò nel Forgoncino Con Gary Ha detto Ok Tu mi offri soldi Perché no Effettivamente Non ci è arrivata A 18 anni Cosa Inquitantissima È stata trovata Da due bambini Nel Green Nel Green River Infatti Per questo Che sono chiamato Green River Killer Perché le sue prime vittime Sono state trovate In questo fiume E Due bambini Stavano Attraversando Il ponte Hanno guardato giù E hanno visto Che c'era C'era un Fagotto Qualcosa di non Bene Identificato Per questo Da un bambino Va a vedere E Cerca di Si Si butta Cerca di Sollevare Questo fagotto E un altro Bimbo Dice Appena Vede I capelli C'è dei capelli Fluttuare Nell'acqua Capisce Che era un Catare E Ovviamente Ferma L'altro Bambino E dice Questa cosa L'ho traumatizzato In eterno Già ancora Non riesce a vedere I capelli Che fluttano In acqua Per Questa scena E ci credo Cioè Non toccherai mai Più l'acqua Perché Poveri bambini Che le racconta Che lui pensava Che lei fosse una prostituta Altrimenti Probabilmente Questa ragazza Non avrebbe Non sarebbe Stata una vittima Perché Lui proprio Voleva prostitute E Lui racconta Che lei Si Si era timorata Parecchio Le fa La mossa Della morsa La strangola E appunto La La butta nel fiume Il giro di un mese Dopo questa Scoperta Verranno ritrovati Altri Quattro Quattro Corpi Nel Green River All'inizio Dopo il primo caso Si pensava Un caso isolato Ma dopo aver trovato Altri quattro corpi Sempre qui Si comincia a capire Che si ha a che fare Con qualcosa di Non so come dire Molto più Serio Una minaccia Veramente Grandissima Si ha a che fare Con un serial killer E tra l'altro Che ne uccise Tante In poco tempo Veramente Violento Brutale Purtroppo In questo video Io farò fatica A dare importanza Alle vittime Perché sono Purtroppo Tantissime Ho guardato anche Qualche intervista Cioè Qualche Intervento Dei familiari Delle vittime Al processo Sono Strazianti Perché Nonostante Perdonatemi Molte di queste ragazze Erano anche Prostitute Per Bisogno Di famiglie Lute bene Di cui Ci si raccorde Di una scomparsa Non che siano Più o meno Importanti Invece Di altre storie Non intendo questo Però C'è stato Tanto Tanta sofferenza Dopo Dalla scomparsa Di queste donne Perché Non proprio Lo facevano Perché avevano Bisogno di soldi E a volte Lo facevano Anche sotto La sorveglianza Della loro famiglia Per tenerla al sicuro Quindi La seconda ritrovata Si chiama Debra Banner E Gary Questa volta Ha spinto il cadavere Verso il fondo Per nasconderla Ma è stata comunque Ritrovata Il terzo corpo È Marzia Chapman Di 31 anni Dalla più Anziana Il quarto corpo È di Cinzia Hines Corpi Questi corpi Erano tenuti giù Con delle pietre Lui ha fatto una cavolata Con due di questi corpi E adesso Prima di capire Perché ha fatto una cavolata Cioè Lui Faceva Violenza Ai corpi Deciduti Di queste ragazze E Dopo capiremo anche il perché Si capisce un po' anche il perché Oltre che Da vive Anche Da morte E in Due di queste ragazze A Per Sfregiarle Ancora di più Perché loro Voleva proprio Sfregiarle Togliere La bellezza Queste ragazze Come in realtà Avrebbero dovuto fare Con sua madre Quindi Ritorniamo sempre qui A Appunto Per dare ancora più sfregio Ha infilato dei sassi All'interno Della vagina E questo ha portato A Letteralmente Incastrare Il suo seme Lì dentro E da lì Prenderanno il suo DNA Ovviamente Siamo negli anni 80 Non se ne faceva nulla Di questo DNA Ma l'hanno comunque preso E questo sarà fondamentale Poi Anni E anni E anni dopo Quindi ha fatto Veramente tanto Una cavolata Dal resto Lui C'è a dire Che per quanto Non fosse Una cima Tagliava Le unghie Alle vittime Perché ovviamente Non rimanesse Pelle Sotto le unghie Le limava Insomma Ci stava anche Abbastanza attento Si vede che non ha pensato A questa cosa Non so come abbia fatto Non pensarci Il quinto corpo Viene ritrovato Sulle sponde Di un fiume Dove il fiume Era in bassa In secca E Mentre stava Abbandonando il corpo È arrivato un pescatore Che Le chiesto proprio Cosa stai facendo E Probabilmente Si pensa che questo pescatore L'abbia Visto Già abbia visto Che la stava facendo Ma non ha mai Denunciato la cosa E in questa storia Come in molte altre Storie simili Ci sono state Tantissime occasioni Di Fermare Questa strage Prima Fermarla A un numero di vittime Basso Oppure Fermarla Fin da subito Se avessero fermato Questa persona Se l'avessero Messo in una struttura Già quando Ha coltellato Un bambino di 6 anni Ma no E questa sarà Una delle tante Occasioni Perse Una di Delle altre vittime È Giselle Ann Lovorn È stata la seconda vittima A livello temporale Ma è stata ritrovata Molto dopo A settembre Dovrebbe essere Dovrebbe invece risalire Ad aprile Questa Questa ragazza Subiva Degli abusi In casa E spesso capitava Che scappasse Di casa E All'epoca Addirittura I genitori Non si ricorda Neanche Di aver ucciso Una persona Una persona A te carissima E Favre una rabbia Incredibile Fuori Da ogni Immaginazione Lei se la ricordava Perché Ha proprio pensato Di prenderla Perché Era Piccolina Era Debole In difesa E ha proprio pensato Che potesse essere Una vittima facile E torna il potere Torna questa cosa Di Sapere che Avrebbe avuto La meglio Sapere che Sì Ce l'avrebbe fatta A sopraffare Per farvi Insomma Capire Come Come lui ragionava Ecco E mi sembra Che Questa ragazza Cioè Quella sera In cui ha deciso Questa ragazza Avesse deciso Anche di Non andare In cerca Avesse detto Ok Stasera No Poi ha visto Questa ragazza E non ha saputo Resistere Perché A un certo punto Per lui è diventato Anche Una dipendenza Un vizio Un qualcosa Di cui non riusciva Non riusciva a controllare Questo impulso Una cosa che gli veniva Quasi automatica Cioè Non mi immagino La mente Cosa 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 deve scattarti È affascinante Da un lato Capire Cosa gli passasse La mente Dall'altro È Veramente 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 Inquietante E disturbante Adesso Dopo Il ritrovamento Di così tanti Cadaveri Iniziano appunto A indagare Per un senior killer E vengono Ritrovate Altri sei corpi Donne In questa volta Non nel fiume Ma Comunque In posti vicini E la polizia E la polizia E anche Si ritrova Costretta Per La tantissima Pressione Mediatica A chiamare Anche L'FBI Che Fa Un profilo Psicologico Un profilo Psicologico Killer E pensano E pensano Che sia Una persona Sola Che viveva Da solo Con la madre Un maschio Bianco Sui 30 anni E inoltre Pensano Che sia Il tipico Killer A cui piace Dare informazioni Cioè a cui piace Ritornare Sul luogo Del delitto A cui piace Termare la polizia Essere coinvolto Nelle indagini E così Viene trovato Il primo sospettato Che era Un taxista Che appunto Aveva dato le informazioni Forse anche lui un po' In cerca di attenzioni Ha detto che lui Conosceva tutte le vittime E che gli aveva dato Un passaggio A tutte queste ragazze Probabilmente Semplicemente Aveva sopruito Dei loro servizi Però Comunque Conosceva tutte le vittime E allora In realtà È diventato Il primo sospettato E hanno cominciato A sorvegliarlo 24 ore su 24 Il problema È che Mentre lo sorvegliamo Sorvegliavano Per mesi e mesi In continuazione Sono state ritrovate E sono state Anche denunciate La scomparsa Di altre 4 ragazze Quindi Non Non poteva essere Stato lui Che lì In questo periodo In cui sapeva Che La polizia Stava controllando Un'altra persona Pensava veramente Di Averla fatta franca E Il suo ego Per questa cosa Si Si confia E diventa Quasi convulsivo E in questo periodo È quasi una settimana Quando trovano Il corpo Di una ragazza Di nome Linda Jane Ryle Pensano Che Il killer Era anche Delle perversioni Non hanno Saputo Delle sue Reali Perversioni Finchè Lui Non le ha confessate Non gliene ha detto Molto tranquillamente Lui pensava Lo sapessero Perché A questa ragazza Oltre a Spreggiarla Cilla Ha bruciato i capelli Ha bruciato la testa Perché Ha dichiarato Successivamente Che i suoi capelli Erano molto Molto belli E quindi Era un ulteriore Modo Di sfregiare Questa donna Siamo sempre lì Come Sognava Di sfregiare Di sogliere La bellezza Sua madre Ci risiamo E Di nuovo Trovo tutto Molto Molto triste Anche un'altra cosa In cui tantissima Questa ragazza Quando è successo Questo avvenimento Quando ha cominciato A bruciare i capelli Era viva Quasi tutte le sue vittime Venivano abortate Nella Pacific Highway South Che era Un'auto Un'agenziale Molto Molto famosa Per poter Abordare Produte Era Quasi un bordello A cielo aperto Era Era famoso Come luogo Accade Sempre in quel periodo Fino a 82 Un episodio E anche lì Probabilmente Dopo ci si è Mangiati le mani Perché anche qui Abbiamo Di nuovo Ti sarebbe stata La possibilità Di prendere Questo mostro Prima Che facesse Del male Ad altre persone Sto parlando Di Marie Molina Malvar In una ragazza Che Per puro bisogno Di soldi Andava a prostituirsi Su questa strada E Il suo ragazzo Non potendo impedirlo Non potendo impedirlo Diciamo che La solvegliava Attraverso il suo Furgoncino E controllava Che le tornasse E se aveva Un sospetto Seguiva Questo furgone E lui Ha avuto Un sospetto Su che non gli tornava qualcosa Ha avuto una brutta sensazione E ha provato A seguire Il suo pick up Marrone Magari è riuscito A seminarlo Ha portato Marie A casa sua Come faceva Per la maggior parte Delle vittime E il ragazzo Di Marie Ha chiamato Il padre Di Marie E gli ha comunicato Questo avvenimento Che lei non stava Tornando Che era stata Presa un pick up Marrone E loro due Si mettono A cercarla E trovano Il pick up Marrone Davanti A casa di Gary E questo punto Cioè Come posso Non averlo preso Davanti A casa di Gary E Marie In quel momento In cui trovano Il pick up In quel momento In cui Chiamano la polizia La polizia arriva Era morta Sul suo letto Cioè Sarebbe passato Entrare in appartamento Casuole Sfortuna vuole Il poliziotto Che arriva Conosceva Gary Era un suo vecchio Compagno Di liceo E si mettono A chiacchierare Ricordando I vecchi tempi Non lo so O forse Compaio di college Non sono sicura Ma di fatto Che lo conosceva Fanno due chiacchiere E si mettono A ridere Sul fatto che Sì certo Loro credono Che su Sia il Green River Killer Sì sì Certo E se ne va via E veramente C'è di queste storie Soprattutto negli Stati Uniti Di questa Incompetenza Perché in competenza La polizia Si sentono veramente Tante 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 Storie E fa tanta Anche rabbia Pensare appunto Tutte le vite Che avrebbe Comunque potuto salvare Il fatto di Entrare in quella porta Lui Che è ridigio Di non aver Quasi mai provato Settimenti Per le vittime Lui Anzi Era molto freddo Lui Le prendeva sempre Da dietro Non le guardava Neanche in faccio Quasi Tante Per una ragazza Questa ragazza Si chiamava Carol Anne Kristen Kristen Sen Carol Carol Anne Kristen Sen E lui dice Che era l'unica vittima Per cui ha provato Qualcosa Anche qui Secondo me Perché Perché era Materna Era una madre E lui ha sempre Avuto questo Desiderio Di essere accettato Fondamentalmente Di avere una madre Decente E quindi Questa cosa Che lei fosse Materna Lo fascinava L'ha fatto L'ha fatto provare Dei sentimenti E' uscita addirittura Tre volte Senza Senza Che facesse Avance Niente E quando lei Insomma Lo porta A casa sua E gli dice Guarda Mi dispiace Dobbiamo fare in fretta Perché mia madre Sta arrivando E appunto Devi andare via Prima E lui Si arrabbia Talmente Tanto Per questa frase Gli parte L'embolo E l'ammazza E lui racconta Che si è arrabbiato Così tanto Perché Per lui Perché Si è sentito Rifiutato Si è sentito Non accettato Si è sentito Non amato Non voluto Ovviamente Cioè in corso Lo sapeva Che era una prostituta Comunque Non sarebbe stato Ben voluto O voluto O amato Però Comunque Gli risveglia Questi sentimenti Di Me ne freghismo Fondamentalmente E Lo fa arrabbiare Talmente tanto Da Portarlo Questa cosa Anche se Non voleva In realtà E questa ragazza Viene trovata In modo diverso Agli altri E viene trovata Con Una sassiccia in mano Un pece in faccia Un bicchiere di vino Lì Lasciato lì E Gli investigatori Hanno pensato Tantissime cose Tantissimi Divecati Risveglia in lui Questo Trauma Dell'abbandono E quindi Lui La La butta Come Come se fosse Spazzatura Cioè questo è il suo simbolo La buttata Come se fosse Spazzatura Perché C'è della serie Lei Ah lei si è voluta Ripenare Cos tanto Facilmente Di me Ah Io La butto Come se fosse Spazzatura Nell'agosto Dell'83 Ormai siamo Più di Venti Vittime Forse anche Di più Trovano Altri corpi E Ormai si era Capito Che Gary Cioè che Il Green River Killer Prendeva Le prostitute Su un Pick up Marrone Nella Pacific Highway South E Su questo Pick up Marrone Quindi Si crea un taskbox Di circa 50 persone Chiamate Green River Task Force Mi sembra E Praticamente E al posto Di controllare Quest'autostrada Come Sarebbe stato Normale Fare Loro Giravano Nei boschi Parlando Tipo Trovare Lui In In azione Non lo so E In realtà C'è anche Un Cross Cover Diciamo così In questa storia Perché Non ho capito Ci sono due versioni Non ho capito Se Ted Bundy Per rimandare Il suo processo Cerca di Inserirsi In Questa Indagine O se Addirittura La polizia Lo coinvolge Essendo anche lui Appunto Un famosissimo serial killer Da quello che ho capito Ted Bundy Aveva avuto Il sospetto Aveva capito Suggerito Alla polizia Di andare A Controllare Di lasciare Controvare Un cadavere Lasciarlo Dove era Perché Lui era convinto Che il kill Sarebbe Ritornato Dal cadavere L'apposizione L'ha fatto Perché non era Possibile Perché non si poteva Lacciare un cadavere Lì Però Anche lì Se avessero seguito Il consiglio Che pare aver dato L'avrebbero preso L'aveva già capito Ted Bundy Non lo so Ma una passione In comune Adesso arriva La parte un po' più Inquietante Di Di tutto Perché Quando Sono andata A vedere le interviste Ho fatto tra l'altro Da Journalista Donne Non so con che coraggio Cioè Non Non so Veramente Con che coraggio In generale Fare interviste A queste persone Però Lui Lui parla con una calma Un po' sottomesso Un po' triste Ma con calma Come se stessero accortando Una giornata che non è andata Una giornata no Molto Così Un po' triste Molto calmo Molto calmo però E Tu Vedendo questa persona Parlare Non pensaresti Mai Che possa fare Delle cose del genere Un certo killer Lo vedi Sembrano Un po' Maddi Sembrano Non so Te lo immagineresti Di più Lui cavolo No 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 E quando sai Che ha fatto queste cose Sai che ci sono così tante donne Ma lo vedi E poi come lo racconta È veramente Surreale Perché Il Modo in cui racconta Non corrisponde A ciò Che racconta Sembra totalmente distaccato Da ciò che racconta Sembra non rendersi conto Della gravità Di ciò che dice E questo È Molto disturbante Molto inquietante Un'altra cosa Che Adesso Preparatevi È che sapete Che aveva un figlio Lo raccontatelo In questa intervista La giornalista Gli chiede Ma Come Come facevi A A convincere Queste prostitute Entrare sul tuo pick up Insomma Ormai si sapeva Il Green River Killer Apportava Su quella highway Su un pick up Marrone Insomma Come facevi a guadagnarti La loro fiducia Perché mai si arrivano Io non sarei salita Sapendo questa cosa E lui diceva Che aveva Diversa strategia E lo dice con calma Come se dovesse Cioè Come se dovesse Nell'intervista Della spesa Che devi fare E dice Che doveva In alto fiore La barba fatta Devi essere in ordine E lui Usava questa strategia Molto molto Subtula E orribile Deve essere Molto traumatico Per il figlio Sapere questa cosa Diciamo che era Era uso Era abitudine Delle prostitute E chiedere La carta d'entità Alle persone Che volevano Suffrire Del loro servizio E lui Praticamente Diceva Che apriva Il portafoglio Mostrava La carta d'entità Coprendo con un dito Il nome E subito dietro Si vedeva Sbucava La foto Del figlio E quindi Questo Dava Alle tono Una sensazione Di padre Ah vabbè Un padre Cioè Come può essere Lui no Aveva una foto Del figlio Sul pick up Aveva dei giochi Del figlio Che si vedevano Che tristezza Che schifo In questa Una lista Le chiede Anche È mai Incapitato Che tuo figlio Assistesse A queste cose Perché lui Poteva vedere Suo figlio Nel weekend E lui dice No Solo una volta Io ho Abbordato Una prostituta C'era mio figlio In macchina Poi semplicemente Ho abbandonato Mio figlio In macchina Sono andato Nel bosco Con lei Ho fatto Tutto Quello Che Fa Ed è tornato In macchina Senza di lei Al che Il figlio Le chiede Dove è finita La signora E lui È stato Semplicemente Tornato a casa Con la sua macchina Alla fine Cioè Immaginate Il figlio Che poi Scopre questa cosa Non riesce neanche A trattenerti Quando c'è tuo figlio E il figlio Racconta anche Che spesso Andava in campeggio Col padre E casualmente Andava in campeggio Nei posti In cui poi Sono state ritrovate Le vittime E anche lì Probabilmente E si assentava Qualche volta E anche lì Probabilmente Era per fare Ciò che vi entrò A dire E cioè Lui Tornava A sfogarsi Sessualmente Con le vittime Finché Non erano Talmente Tanto In stato Decomposizione Da non riuscire Più A fare Nulla Per questo Vedo anche Della moglie Che l'ex moglie La portava In quei boschi E lui Si è anche Inventato Un disettico Per proteggerlo Da anche Le malattie Che si possono Contrare Non Le malattie Si possono Contrare Ma immagino Ci siano tante Praticamente Faceva Di alcol Più Acqua Di un cadavere In alto Stato Di decomposizione E lui racconta Anche Quando i poliziotti Trovavano Una ragazza Trovavano il cadavere E lo portavano via Lui si sentiva Derubato Era proprio Arrabbiato Perché gli stavano Togliendo una proprietà Perché per lui Quelle ragazze Erano sue Quindi E questo E lui tra l'altro Appunto Essendo una persona Con molti bisogni Mettiamola così Non si sa Cioè questa cosa La faceva sia perché Gli piaceva Sia perché Avendo questi tanti bisogni Non riusciva a sfogarli Tutti In prostitute O con la moglie Perché La moglie dopo un po' Era stanca Le prostitute costavano E quindi era anche Una scelta Economica Se non fosse Lo costa E inoltre Si annotava Il numero E il nome Delle ragazze Su un blog notes Con un suo codice Tutto suo Per non fare Sarece a sospetti Venire a sospetti Alla moglie E a volte Richiamava Anche il Diciamo Pappone Di queste ragazze Chiedendo Di queste ragazze A nome Steve Perché lui si chiamava Cioè lui dava Il suo nome Lo dava come Steve Quindi Depistando Anche questi papponi No? Perché se la ricerchi Che se la vai cercare di nuovo Non sai Che non c'è più Questa ragazza Che è scomparsa Un altro Forse la cosa più Orrenda Che ha fatto Ma Non lo so È che Nel novembre Dell'83 Viene ritrovato Un corpo Di una ragazza Incinta di otto mesi Mary man Lui dice Che non se ne era accorto Che tanto lui Faceva tutto dietro Però Quando la seppellisce Insomma Te ne devi accorgere Non se ne è accorto E comunque Dichiarato Che anche se Se ne fosse accorto L'avrebbe fatto Lo stesso Tanto era il rispetto Che provava Verso queste donne Per farvi capire La persona Proprio Non lo so Zero Zero controllo Zero impat... Non dico impatia Non lo so Zero sentimenti Zero Niente Nel 85 Però Succede una cosa Non vengono più Trovate vittime Uccise Recentemente Vengono trovate vittime Ma che Non possono essere condotte A quel periodo Ma Prima E quindi in realtà Si pensa Che il Green River È stato beccato Per qualcos'altro Sia morto Non si sa In realtà Che lì Aveva trovato L'amore Nel 85 Infatti Lui incontra Una ragazza Di nome Judith Mouson Penso si pronuncia così E nell'88 Si sposano E con questa Judith Tutto cambia Lui si innamora Follemente Lui Per amore Cambia Smette di uccidere Da momento All'altro Perché finalmente Trova La persona E lo fa sentire amato E lo fa sentire accettato E lo fa sentire tutto ciò Che lui ha sempre cercato Ed è tristissimo Non so cosa sia più triste Di questa cosa Fondamentalmente Però Lui non sente più Il bisogno Di fare questo Un'altra cosa Che non vi ho raccontato È che Praticamente Lui Dice sempre All'intervista Che Lui a volte Andava Dalle vittime Dai cadaveri Ne approfittava E beh a volte Si addormentava Abbracciato A loro Perché diceva Loro Non mi potevano Rifiutare Non potevo essere Abbandonato Da loro Capite Il suo trauma Che ritorna sempre Dell'abbandono E lui Talmente Innamorato Invece Di questa Giudice Che Sente che Lei non L'abbandonerà Sente che Lo accetta Lo ama E smette di E penso Un caso Veramente Particolare Anche per questo Quindi in realtà Questa donna Fondamentalmente L'ha cambiato E lui dice Di sentirsi Anche in colpo Perché Nel letto Dove Dopo Insomma Dormivano Lui aveva Ucciso Delle vittime Addirittura Non dormiva La notte Non dormiva Certe notti Pensando Sentendoti in colpo Verso Giudy Di avere commesso Dei crimini Così Nel letto Dove dormiva Anche Judith Non lo so Cioè Ma ha guarito Questa persona Ed è triste Anche pensare Che questa persona Non abbia trovato Judith Un'altra Ragazza Che l'abbia saputo Amare Non so come E farlo sentire Accolto E amato Prima Che lui Cominciasse Questa strada Ve l'ho detto Ci sono tanti 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 Se In questa storia Quindi Lui Nell'85 Smette E fondamentalmente Cioè Non Non Potenzialmente Poteva anche Non essere più peccato Perché non sarebbe più stato peccato All'azione E Non lo so È stranissima Come cosa Ma è veramente Sciocca tantissimo Questa cosa L'abbia smesso Da un giorno all'altro Così Nell'86 Però Quindi quando lui L'abbia smesso Viene trovata Kimberly Page Kimberly Page Viene trovata Tre anni dopo La sua uccisione La sua scomparsa E Praticamente Nel periodo Scomparsa Page Una sua amica Che faceva Il suo stesso lavoro Aveva Visto Che Kimberly Veniva Presa Su un pick up Marrone E Aveva dato Un identikit Cioè Tre anni dopo L'86 Aveva visto Il signore Che l'aveva presa su Tre anni dopo Prova a dare Questo identikit Ma ovviamente Un identikit Immaginatevi Tre anni dopo Non è la stessa Non ti ricordi Vai fatica a ricordarti Un viso No Comunque Non è la stessa Chiarezza E sentendo Questa storia Anche un'altra Ragazza Si fa amanti Rebecca Che racconta E non viene Creduta subito Però racconta Che lei Ha E E' stata Vittima di questa Persona Ma è riuscita A scappare Quindi è stata Quasi uccisa Dalle Green River Killer Quindi anche lei L'aveva visto E Anche lei Fa un identikit Un identikit Un po' Vago Però fondamentalmente Gli investigatori Lo mettono Prendono questioni Di chi Lo confrontano Con tutto il loro Database E fondamentalmente Gary Era stato denunciato Per Istigazione Alla prostizione Nell'81 Quindi anche Gary Era in questa lista E Vengono confrontati Vengono fatti vedere Le due ragazze Vari uomini Subito Le ragazze Riconoscono Gary Lo mettono sotto Sobveglianza Lo obbediano Giorno E notte Perché a questo punto L'avevano Trovato Erano certi Di averlo trovato Il problema Qual è Che lui Non lo diceva più E quindi Loro Nonostante fossero certi Non riuscivano A cogliere In fragrante Non riuscivano A trovare prove Hanno Hanno anche Ottenuto Nell'87 Un Meschiamo Permesso Un mandato Di persecuzione Di perquisizione Un mandato Di perquisizione E Solo che In casa Non aveva più nulla Viveva con Judith Non aveva nulla Nel suo Pick up Uguale Non aveva più Nulla E non sono riusciti A incastrarlo Nell'87 Però Hanno fatto una cosa Hanno preso Un suo campione Di saliva E inoltre Nella speranza Di incastrarlo Gli avevano Che fatto fare Il test del poligrafo Che all'epoca Era considerato Veramente Una prova Schiacciante Un Era Un test Fondamentale Nelle indagini Il punto Che lui passa Il test del poligrafo Se ha messo Problemi Perché Come vi ho detto Prima Lui aveva Questa Capacità Era un buciardo Patologico Aveva questa capacità Di interpretare Un personaggio E rimanerci E lo interpretava In quel momento Il personaggio Del pro uomo Del religioso E per lui è stato Facilissimo Mantenere la calma Durante le Le risposte E ovviamente Il poligrafo Non capisce Se stai mentendo Stai dicendo La verità Ma percepisce Solo L'agitazione No Il cambiamento Del tuo corpo Mentre stai dando La risposta Quindi Fino all'87 Quando Quando viene Insomma Salta fuori Questa cosa All'87 Lui viene indagato Giudice Giudice Proprio Dal Piero Lei non sapeva Neanche Della storia Del Green River Killer Fino all'87 In caso Dice che Siano sbagliati Eccetera Il problema E che Ovviamente C'è un'attenzione Mediatica Enorme Su questo caso I vicini Avevano visto Che la bulletina Era venuta A fare il mandato Di perquisizione E fondamentalmente Anche se Non è Non è stato Arrestato Tutti Lo consideravano Colpevole Lo Lo tartassavano I giornalisti A casa I media I vicini A lavoro E lui Lo prende Talmente male Questa cosa Che dice Ok Voi Mi credete Il Green River Killer Allora sapete Cosa faccio Allora lo sono E nell'88 Oggi Altre tre Donne Da quello che si sa Le ultime tre L'ha fatto Per rabbia Cioè ha ripreso Quella rabbia Che aveva abbandonato Per amore di Judith Io non so Perché altre tre Non so Perché lui poi Dopo si sia rifermato Per fortuna Però sì Cioè se Non Se i vicini Medi E i giornalisti Non si fossero Accaniti così tanto Su di lui Cosa che Capisco Queste tre persone Non sarebbero Queste tre donne Non sarebbero Stati uccidi Lui ormai però Cioè non era più Un sospetto Non era più Sorvegliato Ora niente Adesso facciamo Un salto temporale Veramente Tanto tanto Ampio Passano gli anni Novanta Passa Il traguardo Fra gli anni Novanta E il 2000 Arriviamo Al 2001 Negli anni 2000 Nel 2001 Si era sviluppata La tecnologia Di Analisi Del DNA Che prima Non c'era E riuscivano A isolare Il DNA E a confrontarlo E a Maggiare Il DNA Che corrispondevano E avendo Il profilo Genetico Di Gary Dal fatto che Avevano fatto Analyse Nella sua saliva Nell'87 E avendo Il Dei suoi Delle sue Tracce biologiche Derivanti Dal fatto che Lui aveva messo Dei sassi Aveva bloccato Il suo sperma Confrontano I DNA Ed era lui Era la prova Schiacciante E immaginatevi Questa persona Che pensava Era un'altra vita Aveva attualmente Cambiato vita Non Non se l'aspettava Assolutamente Nel 2001 I poliziotti Lo vengono a prendere A lavoro E lo accusano Giustamente Di essere A River Killer Inizio Nega Chiama Judith Disperato Negando Perché la sua paura Era più quella Di perdere Judith Il suo grande Amore La polizia però Avendo questa prova Schiacciante Avendo comunque Tutte le altre prove E già Comunque Lui era rimasto Il sospettato Semplicemente Non avevano prove Schiaccianti Per poterlo Accusare Lo minacciano Che se non Avesse confessato Avrebbe subito La pena di morte E quindi Lui Per paura Di perdere La sua stessa vita Confessa Confessa 48 Ci viene Condannato Per 48 Ergastoli Più 480 anni Di carcere Dopo Viene Trovato Un altro Corpo E quindi Saranno 49 Ergastoli E quando Viene Fuori Dall'indagine Che lui aveva ucciso Molte più donne Di quelle Che erano state Ritrovate E lui Diciamo Collaborando Con la polizia Va Nei posti In cui Le aveva Seppellite A A portare La polizia E lui Tranquillissimo Cioè Diceva Ah Come mi sei mancata Come Come sei stata Accogliente Cioè Ha fatto capire La polizia Che lui era Un necrofilo E la polizia Non aveva assolutamente Idea di questa cosa Cioè Mi immagino La faccia la polizia Quando Quando ho scoperto Cos'è Ah Vabbè Già Hai che fare Con un personaggio Tutto a sé Però Sì Cioè È stato molto Anche più scioccante Di quanto si aspettassero Già E E quindi Aveva ragione Tutti i bandi Il processo Si conclude Nel 2003 E sono disponibili Anche online Dei video In cui Appunto Dei parenti Delle vittime Gli sputano Giustamente L'odio più Più grande L'odio più feroce Gli dicono Cose orribili Una rabbia Una sofferenza Un odio E poi C'è Un padre Che invece dice Ci sono tante persone Che Ti odiano Che sono venuti Che sono venuti qui Per Per versare La rabbia Su di te Tu sappi Chi non sono Una di quelle persone Perché ti perdono E poi c'è La famosa frase Di Gesù Che Perdona Lui dice Perdona sette volte Dice Com'era La solita frase Di Non perdonare sette volte Ma perdona Settanta volte sette Quindi perdona All'infinito E per questo Gary Si commuove Non abbia Non abbia Una mezza lacrima Quando ho confessato Ma Si commuove Per questo E questa Era la storia Del Green River Killer Io non so Chi sei arrivato Fin qui Questo Viderà Lunghissimo Forse Il più lungo Che abbia mai fatto E Spero vi sia piaciuto In un qualche modo Non so se Ancorrarvi la buonanotte Perché Non lo so Ditemi Se avete Se avete già sentito Parlare di questa storia Se Se vorreste Altri cast del genere Sul canale Al di là Di Halloween Non so se li porterò Ma voi dite Però Vi ringrazio Per essere avatevi qui Un bacione Che li spero Che li spero Che nutri Che 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 Che